Siamo in Canneto Lungo, parte di Canneto verso il fondo, comunque a due passi da San Lorenzo perché siamo vicino a Vico Gesù. Qui abbiamo una zona d'ingresso, soggiorno, casa ristrutturata veramente cinque anni fa, porta blindata, qui per terra abbiamo un gress che sembra un parquet. Quindi qui esposizione sempre su Canneto, si può anche stendere, comunque c'è la sua corda. Quindi panoramica dell'ingresso, qui abbiamo un cucinino con finestra, la casa è completamente arredata, viene venduta così come la vedete. Abbiamo un primo bagno, comunque un bagno di servizio, con WC, lavatrice, qui c'è la caldaia per il termo autonomo. Quindi soggiorno di ingresso, cucinino, un bagno. Poi qui andiamo alla zona notte dove c'è, con la sua porta a scrigno, bagno completo di doccia, quindi questo è il bagno principale, patronale. E qui una grande camera matrimoniale, con la prima parte dove si può allestire appunto una scrivania, qui. Qui abbiamo un'esposizione in una corte, però molto luminoso, quindi silenzioso anche. Facciamo una panoramica, quindi qui armadio e poi vanno letto molto carino con questa nicchia, che di nuovo si può mettere uno piccolo spogliatoio, delle cose interessanti, scarpiera, quant'altro. Abbiamo il trave a vista. E poi mi soffermo un attimo, il palazzo non è vincolato, però ha questo affresco del 600 che è venuto alla luce. È stato restaurato, molto grazioso e direi che possiamo terminare con questa immagine. A presto!